Il tema delle unioni civili deve essere studiato vedendo sempre le interferenze col matrimonio perché c'è una finalità comune che è quella di garantire una comunione materiale e spirituale dei componenti del nucleo familiare al fine di realizzare lo sviluppo della persona quindi entrambe sono senz'altro riconducibili nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione. Questo tipo di ragionamento però comporta poi di vedere quali norme in tema di matrimonio sono comunque applicabili alle unioni civili e ce ne sono tante al di là di quelle espressamente richiamate dalla legge Cirinna e l'altro aspetto sempre nelle prospettive dell'interferenza quali norme delle unioni civili impongono o imporranno una rivisitazione delle norme in tema di matrimonio sempre per garantire poi un rispetto al principio di uguaglianza una parità di trattamento lì dove questa parità di trattamento sia ragionevole e giustificata.